Sono Maddalena Bonsante per TG7 Basilicata, ci troviamo qui nella splendida San Marino e vedete alle mie spalle la bellissima cava dei balistrieri. Io sono affiancata da due Miss, le due vincitrici del concorso Miss Informissima in Alfa Repubblica di San Marino. La vincitrice della categoria delle Miss Alessia Muolo e la vincitrice nella categoria delle Teenager Giada Recchia. Adesso sentiamo dalla loro viva voce le loro emozioni e le sensazioni che hanno provato in questa avventura. Sicuramente ho provato delle emozioni fortissime, sicuramente è un'esperienza che non dimenticherò. È stato anche divertente sfrecciare a bordo delle macchine, delle Alfa, anche le più antiche proposte qui. E insomma sono ancora di più felice di condividere questo titolo e questa esperienza con la mia amica Giada. Io sono molto emozionata soprattutto di aver partecipato ma anche di aver vinto. Sono stata accolta come siamo stati accolti tutti quanti in una maniera fantastica. Questa esperienza in giro con le Alfa storiche è stata stupenda, indimenticabile ed è un'esperienza che rifarei altre volte. Bene, è tutto da San Marino, intanto noi continuiamo a goderci questo splendido panorama. Grazie a tutti e buonasera.